buongiorno 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 a tutti allora aspettiamo qualche istante che youtube invia le notifiche ok 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 ci siamo vedo che vi state aggiungendo bene bene quest'oggi facciamo una bella diretta operativa quindi condividete questo link anzi non dovrei non dovrei ma vado a mettere anche questo link nel mio gruppo telegram non che non dovrei ma poi vi abituate vi abituate e non vi iscrivete al canale youtube quindi iscrivetevi su youtube così almeno ricevete le notifiche ok allora ci siamo ci siamo aspettiamo ancora qualche secondino datemi un feedback audio video gentilmente se mi sentite e mi vedete correttamente in modo tale che possa stare tranquillo che lato tecnico sia tutto ok perché questa mattina visto che è un po di tempo da dedicare ai miei sempre più numerosi seguaci non è vero sono sempre meno ma meglio così pochi ma buoni come come si dice in generale la scherzia parte purtroppo la verità fa male quindi quando la gente che si viene spiattellata in faccia la verità tendono a andare un po sulla difensiva e quindi puoi dare colpe ad altri comunque vediamo un po allora benvenuti in questo video io sono fabio brigida sono un investitore privato insegno a studenti giovani studenti liberi professionisti e fondamentalmente anche pensionati come investire in azioni quindi come gestire al meglio i capitali che decidono di investire in borsa specialmente in azioni quindi mi occupo di azioni non mi occupo di cripto non mi occupo di forex non mi occupo di trading ma sono un investitore che con i miei soldi investe in borsa e quindi questa mattina proprio il focus di questa di questa sessione dal vivo che spero stia andando in onda correttamente perché ogni tanto vedo che si blocca qualcosa ma ok ci siamo allora il focus di questa sessione dal vivo è quello di spiegarti come devi investire in azioni banca generali quindi benvenuto prendi carta penna foglio insomma quello che ti serve per prendere appunti perché fra un po condivido lo schermo e iniziamo questa bellissima sessione dal vivo che sinceramente allora a me piace molto fare questi video signori il discorso è che bisogna avere del tempo quindi se non ho tempo preferisco non farli quando del tempo li faccio anche perché sono video di immenso valore non sono analisi tecniche come quelle che fanno i cazzari sul web sono mie analisi grafiche con candele e chi nasce finalizzate ad investire quindi col vostro permesso io questa mattina userò il vostro tempo per fare gli affari mie nel senso che sto scherzando ovviamente utilizzerò questo spazio in diretta anche per pianificare un mio investimento su banca generale utilizzando una delle mie strategie quindi diciamo che oggi può essere sicuramente un giorno molto fortunato per voi se saprete leggere non solo fra le righe ma anche fra gli spazi perché vi spiegherò un attimo come si usa una mia strategia la e strategy applicate in maniera concreta un titolo che così a passare mi ha dato l'idea di essere un titolo abbastanza interessante quindi signori condividete questo video su siamo ancora un po pochi datemi un feedback per cortesia audio video Matteo se mi stai vedendo in diretta dimmi se è tutto ok audio video così adesso passeremo alla condivisione dello schermo e andremo sulla piattaforma di investimenti a maglio di analisi visual trader ovvero la piattaforma che io utilizzo per queste analisi prima di entrare nel vivo vi ricordo che fino a dopodomani è ancora possibile accedere al titolo del mese di giugno quindi 50 euro un link da qualche parte ora non so se nella descrizione comunque se non c'è chiamate il 351 775 5005 oppure vedete il video che ho fatto ieri su dove dovresti investire a giugno li trovate tutti i dettagli il titolo del mese è un titolo sul quale io già sono in posizione è che secondo me ha un potenziale molto molto elevato di crescita perché l'ho intercettato dal basso non solo io ma anche i miei studenti privati o coloro che erano alla master class stanno praticamente si stanno leccando letteralmente i baffi non so se è un paragone che regga però stanno generando sicuramente profitti superiori al 40% ve lo dico di per certo perché io sono entrato un po' in ritardo il titolo ha una performance superiore al 40% figuratevi chi è entrato prima al momento opportuno perché devo essere sincero sono entrato on the run su questo titolo perché avevo un portafoglio abbastanza pieno di titoli quindi ho dovuto un attimo alleggerire per fare spazio anche dietro indicazione di una mia studentessa privata ok grazie grazie team grazie grazie a maggio allora quindi entriamo nel vivo se sei così gentile potresti anche mettere il link del titolo del mese qui in chat in modo tale che chi è interessato può acquistare quindi è un estratto della master class focalizzato sul titolo del mese quindi una ventina di minuti operativi fortemente incentrati sulle caratteristiche sul come gestire questo titolo bene allora direi che possiamo entrare nel vivo quindi carta e penna andiamo sui grafici andiamo sulla visual trader perché questo oggi faremo una sessione una sessione operativa allora ovviamente partiamo dal fatto che io non ho il titolo banca generale in portafoglio intanto questo è l'andamento di oggi dei miei titoli quindi quindi c'è una situazione abbastanza rossa diversificata ma ribassista tranne su farma nautra e prismian dove ci sono due pending gli altri sono tutti i titoli che ho in proprio in portafoglio anyway a noi non interessa sapere come vanno come vanno le azioni giorno per giorno a noi interessa avere quest'ottica da investiture quindi adesso vi faccio questo cappello introduttivo vi condividerò un quadro grafico Eikinashi a candele partiamo dalle mensili mensili trimestrali se ho tempo vorrei anche dare uno spaccato fare una panoramica su altri titoli del settore bancario per vedere un po' se c'è qualcosa di interessante e poi niente poi vi lascio alle vostre faccende giornaliere quindi mi raccomando signori se siete interessati a imparare come gestire i vostri soldi i vostri investimenti in azioni iscrivetevi al canale contate il team fate un po' quello che ritenete più opportuno fare mettendovi sempre nell'ottica che comunque io non sono una onlus non sono uno che si fa due chiacchiere on demand su richiesta come qualcuno con il mio grande con la mia grande sorpresa ha scritto sul mio canale telegram ora io voglio anche stemperare ogni tanto signori ma questo se non vi è chiaro è il mio lavoro cioè non è che io ho tempo da poter dedicare per chiacchierare con tutti nel senso che siccome siete in tanti che vorreste scambiare due chiacchiere con me allora ci sono gli appositi spazi che sono ovviamente servizi a pagamento la tavola rotonda che era la vecchia hot seat piuttosto che delle sessioni operative ok quindi io non voglio essere come dire mettermi su un piedistallo no semplicemente non avrei più una vita se chiunque di voi mi chiedesse di fare una chiacchierata io dicessi sì ok facciamo no quindi cesco cespo non mi ricordo qual è il tuo nome se vuoi avere un confronto con me ma non giusto per chiacchierare di quanto fa caldo in Puglia anche perché ho visto che anche tu sei della provincia di Bari non mi ricordo bene ok non appartengo a quel mondo mi dispiace deludervi già ci siamo capiti no qui si fanno le coste seriamente non le chiacchiere quindi quindi per dirvi ecco questa mattina andremo ad operare quindi prendete questi contenuti come dei contenuti altamente operativi poi sempre per rispondere a te visto che ci sono hai detto che non faresti mai un mio corso perché non ti fidi quindi carissimo quale la porta puoi anche uscire dal mio canale telegram perché alla fine non sarò io a convincerti chiaro quindi ho un sacco di studenti che hanno risultati quindi se tu non ti fidi sinceramente è un problema tuo quindi detto ciò andiamo sul grafico utilizzerò una piattaforma come vi ho già detto la Visual Trader di Traderlink è una piattaforma che ho utilizzato da un sacco di anni quindi questa è la base sulla quale andrò a fare l'analisi odierna quindi iniziamo come vi ho già detto che ripeto non è un'analisi tecnica è un'analisi finalizzata a un'eventuale pianificazione di un investimento di medio lungo periodo allora ieri il mio il mio nuovo assistente il mio nuovo membro Matthew mi ha infatti spiegato che non era così scontato che la maggior parte di voi sapesse che io utilizzo i grafici con una scala logaritmica o simi logaritmica ecco perché anche quei signori non sono non conosco tutto il mondo delle piattaforme online però usare la visual trader anche questo vantaggio è vero che alcuni di voi dicono sì ma c'è l'abbonamento più ogni anno a parte che voi che siete qui che vedete questi video avete uno sconto sempre perché siete appunto miei studenti miei follower miei seguaci chiamatevi un po' come volete quindi se siete interessati scrivete a info e richiedete quello che è il codice da applicare per avere uno sconto del 25% sui servizi della visual trader vi dico di scrivere a info perché questo sconto questo codice potrebbe cambiare di volta in volta quindi per essere sempre sul pezzo scrivete Martina Federica Matteo qualcuno vi risponderà e quindi saprete come non perdervi mai lo sconto ma al di là di ciò una delle cose più importanti della visual trader uno è che è molto affidabile chiaro due è che consente anche di avere la scala semilogaritmica e non è una cosa da poco quindi perché è importante la scala semilogaritmica perché quando voi ad esempio vi faccio questo vi faccio proprio questo confronto dove sto dove sto no non devo andare qui devo andare allora allora quando voi vedete i prezzi che si muovono non osservate la variazione in valore assoluto ma osservate la variazione in valore percentuale tipo Allerion oggi sta scendendo dell'1,04 Amplifon dell'1,59 sto dicendo un po' di titoli no? il titolo migliore di oggi è Health Italy che sarà del più 11% quindi vedete come i valori vi vengono mostrati in cifre percentuali non in cifre in valore assoluto quindi perché tutto ciò? perché se voi avete un titolo che sale da 1 euro a 2 euro no? dal punto di vista assoluto la variazione è sempre di 1 euro ma dal punto di vista percentuale la variazione è del 100% seguitemi se un titolo invece sale da 10 euro a 11 euro è sempre 1 euro no? di variazione assoluta ma in percentuale è solo il 10% chiaro? ecco perché lo scenario 1 non può essere uguale allo scenario 2 se non usate una scala apposita ecco perché la scala semilogaritmica vi dà questa formattazione grafica corretta per essere in grado di capire realmente come dal punto di vista visivo il titolo si stia muovendo in accordo con quelle che sono le variazioni dei prezzi ora spero di aver reso l'idea però fidatevi quindi se la vostra piattaforma di investimenti di analisi quella che utilizzate non vi dà la possibilità di avere una scala semilogaritmica o logaritmica è un po' un problema qui sulla visual trader basta cliccare col tastino destro configura scala dei prezzi e si flagga scala semilogaritmica quindi questo è molto importante molto molto importante alcuni non ci fanno caso e vabbè pazienza non a caso non sono i miei studenti chi è mio studente sa che la prima cosa da fare è uno togliere tutte le cazzate dai grafici qui abbiamo volumi anzi chiudiamo anche questa tendina qua che ci distrae qui abbiamo volumi sotto e prezzi tramite candele e chi nasci sopra al massimo al massimo ma neanche al massimo io mi aiuto con dei riferimenti supportivi di supporti delle resistenze ma quelli giusti non quelli giusto per farvi dire che ho studiato il pring lo spring come cacchio si chiamano quei libri no che sono libri di analisi tecnica fantastici per riempirvi la testa di cazzate poi quando andate a mettere in pratica tutto quello che c'è su questi libri non uscite non cavate un ragno dal buco e quindi date la colpa al mercato manipolato più o meno è questa la come dire l'andazzo l'andazzo in Italia quindi signori io direi che possiamo entrare nel vivo ho dato un po' di informazioni se ci sono delle domande nel corso di questa sessione potete farle io cercherò di darvi una risposta alla fine di questo intervento quindi Banca Generali allora questo è il quadro grafico di Banca Generali in Sile abbiamo si nota no stiamo assistendo a una fase di rallentamento di questo ritracciamento che c'è stato dai massimi quindi attenzione io uso anche delle parole che usano i grandi i fibonacciari qui in rete ma alla fine ancora non ho trovato un sinonimo di ritracciamento potrebbe essere un calo temporaneo già va meglio quindi io personalmente osservo un rallentamento di questa pressione ribassista forse è meglio che il titolo ha sperimentato a partire da dicembre fino appunto al mese corrente da cosa si denota? beh signori in maniera abbastanza nitida e immediata da che cosa? beh si denota da una candela totalmente differente rispetto alle candele precedenti quindi perché io vi invito sempre ad avere un quadro grafico pulito? beh semplicemente perché voi dovete imparare a allenare la vostra vista e la vostra vista deve focalizzarsi solo sui dettagli per i quali vale appunto la pena focalizzarsi chiaro? quindi nel momento in cui voi sporcate riempite i vostri grafici di trendline e di indicatori e di oscillatori e di media mobili e di super trend e di super cazzole perdete il focus che è quello di dove diamine sta andando il prezzo allora il prezzo qui è 32 euro e 0,1 ad oggi al momento quindi sono le 10 e 38 di questo 7 di giugno e banca generali prezza prezza 32 euro d'azione non vale prezza cioè il mercato dice che banca generali prezza 32 euro d'azione il valore non lo sappiamo non deve fregare nulla di quanto vale il titolo perché ricordatevi voi non comprate il valore voi comprate un prezzo chiaro? quindi piccoli tips che fa sempre bene fa sempre bene appunto ricordare quindi per fare come fanno i grandi youtuber vi chiedo voi avete il titolo banca generale in portafoglio lo state già gestendo perché se così bene siete entrati leggermente un po' in anticipo quindi benvenga che voi rimaniate qui perché quanto meno vi dico cosa dovreste fare se le cose dovessero mettersi dovessero mettersi male quindi signori questa mattina state avendo appunto un un concreto assaggio di quello che io faccio quando decido di investire quindi innanzitutto il colpo d'occhio doji candele che cambiano nuovo mese vediamo come apre il mese avete notato quella successione di corpi rossi che a un certo punto si è appiattita perfetto quindi quello è l'indizio più importante che noi dobbiamo al momento prendere in considerazione quindi signori già vi anticipo che qui si applicherà una e i strategy lo scrivo qui in portafoglio e beh scusate lo scrivo qui in chat ciao Roberto grande sì 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 tutto bene tutto bene spero lo stesso lo stesso anche anche per te allora che che c'hai che c'hai in freezer hai messo qualcosa in fresco ultimamente Roberto ricordo che c'erano un paio di titoli interessanti che stavi si quali stavi investendo quindi bene così ok ok niente banca generali giusto si vede che Roberto è uno studente di lunga data perché in effetti ha visto che non è al momento non c'è al momento la conformazione giusta per entrare sul titolo banca generali quindi vi dicevo andremo ad applicare quella che io chiamo ei strategy strategia A che è una strategia che consente ora ve la sintetizzo ma è molto più approfondita molto più spiegata nel dettaglio nel mio investment bootcamp nel videocorso anyway la ei strategy consente consente di intercettare le fasi di ritracciamento le fasi di recupero dopo ritracciamento dei prezzi di un titolo in tendenza questo in breve quindi la ei strategy consente di intercettare una ripresa della forza rialzista di un titolo già in tendenza dopo che ha subito un calo abbastanza importante dai massimi senza tutte quelle linee fibonacci ganni ventagli non ventagli ventilati no con le doji con le ikinashi con quadri grafici puliti il mercato parla il mercato ci comunica delle cose bisogna essere in grado di ascoltarle con diciamo gli apparecchi con i mezzi giusti quindi su banca generali andremo ad applicare una ei strategy sono abbastanza sicuro di ciò ma al momento è tutta un'idea è un'idea di investimento il titolo non entrerà oggi in portafoglio sarei un idiota a mettere il titolo oggi in portafoglio perché guardate il titolo ha smesso di scendere ma non è che sta salendo quindi ragionate sempre su cosa i prezzi stanno facendo e non stanno facendo quindi il titolo possiamo dire che sicuramente sta creando un supporto molto importante in questo intorno qui io vado io ragiono per aree anche qui signori mi dispiace sono abbastanza sincero mi dispiace se tu che stai vedendo questo video magari sei nuovo la prima volta che ti imbatti in questi video e senti delle amenità secondo te beh ti dico che le amenità sono quelle che hai sentito finora signori quando si investe bisogna ragionare per aree per macro trend per grandi movimenti a doppia tripla cifra rialzi del 20 30 60 90 100 200 300 300 quindi quando mi iscrivete anche in privato Fabio ma non ho capito esattamente il livello sul quale hai tracciato la barriera signori non c'è un livello un prezzo esatto c'è un'area che il mercato ha delimitato come un'area sensibile quindi andate di gessetto andate col panarello spesso a tracciare le linee non con con la matitina col micrometro chiaro quindi parliamo di aree di supporto dove i prezzi hanno smesso di scendere aree di barriera oltre le quali i prezzi non riescono ad andare perché c'è una pressione che interviene ma non perché uno deve essere un bravo a disegnare no dovete far girare il criceto ragionare quindi se in un momento in cui i prezzi questo è bello cioè vabbè signori perdonatemi se ogni tanto divago ma questo è il mio canale faccio un po' quello che voglio e soprattutto vi dico sempre cose interessanti beh di vita vissuta no allora e poi facciamoci una risata ogni tanto sempre qui gli investimenti i soldi sì gli investimenti devono darvi serenità gioia felicità tranquilla mattina quando vi svegliate dovete dire ah ok sì ho un portafoglio titoli ma so che lo sto gestendo bene perché studio da Fabio perché seguo Fabio perché seguo il mercato chiaro? allora molte volte cioè io vedo queste cose che vabbè ci provano anche c'è un sacco di ragazzotti che si mettono a fare i video non so vabbè allora loro tracciano un supporto no e pensano che perché c'è un supporto i prezzi siano ralentando quando invece cioè è perché i prezzi stanno ralentando che si creano supporto ecco valla a spiegare questa ai tecnici o ai cazzari cioè non è che perché voi tracciate una linea orizzontale e magicamente i prezzi li smettono di sciare no è in virtù del fatto che i prezzi stanno ralentando che voi potete segnare un livello di supporto vabbè vi ridite ma è la verità lì fuori se ne sentono di tutti i colori quindi fortunati che siete qui iscrivetevi al canale e vedetevi gli oltre 4-500 video che ci suonano sul mio canale non ricordo neanche più quanti siamo arrivati e pazienza quindi titolo banca generali c'è una fase di rallentamento dei prezzi c'è un supporto molto importante ora il fatto che a ridosso di questo supporto si sta creando questa bella candelina che è una doji è un fattore molto importante perché ci fa capire che in questo frangente il titolo potrebbe aver esaurito tutta la sua forza ribassista di breve periodo per rimettersi appunto in careggiata e riandare verso l'alto ora a colpo d'occhio signori io purtroppo so che a volte parlo una lingua un po' diversa da alcuni di voi ma dovreste essere voi adattarvi al mio modo di parlare non io al vostro nel senso che se vi parlo di aria sensibile di stop grafici naturale di e-strategi queste sono delle mie invenzioni che hanno questi nomi hanno queste caratteristiche quindi perché interessato chiamate il team 3517755005 bootcamp investi tre mesi vedete un po' voi cosa vi può servire ovviamente il mio team vi dirà cosa potrebbe fare realmente al caso vostro ad esempio qui c'è una 12 line qui no? ma guardate qui febbraio 2020 il mese in cui fumo in grosso modo scioccati da dal lockdown beh questa candela guardate qui è al momento la candela che sebbene siano passati due anni potrebbe dettare quello che è un massimo di periodo da dover superare per dare un nuovo segnale di forza chiaro? quindi questo massimo non è un caso che si collochi esattamente allo stesso livello di questi massimi storici fatti realizzare da banca generale nel 2015 signori io sto improvvisando per voi non è che mi sono preparato una scaletta cioè io lo faccio di lavoro cioè chiaro quindi se a volte dovessi saltare qualcosa o magari uscire fuori tema è proprio perché sto facendo questo video anche per cercare di spiegare in maniera quanto più semplice possibile cosa dovreste o non dovreste fare ad oggi sul titolo banca generale in un'ottica di investimenti non trading perché la gente appena vede un grafico subito collegare il grafico al trading lo so è una faticaccia ma è ancora così allora quindi iniziamo un attimo a capire che è area 3333 quindi gli anni di Cristo al quadrato rappresenta ad oggi quello che è il mio personale sto condividendo il grafico penso di sì quello che è il mio personale livello trigger oltre il quale si potrebbe mettere in atto una strategy quindi come vi ho riassunto abbiamo banca generale allora fate così no questo è quello che insegno a chi viene ai miei percorsi dal vivo in questi tre mesi cioè in questi tre mesi in borsa con Fabio numerate quelle che sono le condizioni o le caratteristiche o le come dire i requisiti che il titolo possiede o non possiede allora per lei e i strategi c'è una tendenza eh porca miseria certo che c'è una tendenza quindi tendenza cioè rialzista di lungo c'è stato un ritracciamento ritracciamento cioè c'è un'area di supporto non perché io ho tracciato un'area ma perché il mercato mi ha detto Fabio vedi che al di sotto di questo livello di prezzo il titolo non sta certo che c'è guardate sono già tre condizioni la quarta c'è una doji che identifica una potenziale inversione dei prezzi certo che c'è ed è questa chiaro? quindi quattro condizioni non compro perché l'ho letto su non lo so dove non perché non compro perché me l'ha detto il mio addetto allo sportello di fiducia no compro perché il mercato tramite i prezzi raffigurati con le candele chinasci che ho imparato da Fabio mi sto dicendo che ci sono questi requisiti queste condizioni e quindi tutte le carte in regola per pianificare serenamente un investimento chiaro? signori condividete questo video fatelo vedere a tutti coloro che ancora hanno l'intesa le banche MPS magari in portafoglio con la speranza che domani risalgano chiaro? ci devono essere le condizioni grafiche anche questa è una cosa assurda io molte volte ho studenti che investono 5 6-7 mila euro per formarsi con me e da me che mi dicono Fabio tu mi hai salvato perché io neanche sapevo che lo strumento finanziario che io avevo comprato tramite quello sportello di banca che mi ha detto avesse un andamento del prezzo perché intortano con questi rendimenti attisi netti futuro ma che cazzo se un asset il mercato non lo vuole ma perché dovete comprarlo voi e da dove si disume che l'asset un mercato non lo vuole dei prezzi che scendono è talmente semplice non facile ma se vabbè ma non è così tu devi avere la motivazione per la quale il titolo ma che vantaggio in più avete da sapere il perché un titolo sale o un titolo scena ditemelo non c'è bisogno chiaro quindi quando la gente viene a sapere che il loro paniere diversificato sui mercati emergenti che sono 15 anni che devono emergere e chissà quando sta performando negativamente e dico beh è certo che performa negativamente ma guarda il prezzo come scende e no ma il valore e infatti hai fatto la minchiata di comprare un qualcosa perché ti hanno detto che il valore sarebbe aumentato ma invece tu l'hai pagato in prezzo cioè signori quando voi andate al ristorante quando andate a fare shopping quando andate alle spa quando andate in spiaggia lì quando mettete la benzina ho pagato un prezzo non un valore è uguale ecco quanto costa questa maglietta è una maglietta che costa 4 euro della fruit of the loom me ne compro pack da 20 quando arriva l'estate anche perché la mattina non è che c'è tutta sta voglia di capire cosa mette mi metto la maglietta bianca e via ma questa ha un prezzo io pago il prezzo non è che sto a chiedermi il valore per me può avere anche un valore di 50 euro no? perché mi toglie perché mi toglie dall'impiccio che mi devo mettere stamattina che fa caldo mi chiara? veramente ragazzi sto sdramatizzando ma è la verità quindi il valore come vedete è una cosa fortemente soggettiva ma vi comprate un prezzo quindi imparate uno a capire come il mercato risponde agli stimoli diciamo delle mani forti quelli che sono i grandi istituzionali perché se vedete che è un titolo scende 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 è perché gli istituzionali lo stanno vendendo 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 e quindi voi dovete stare lontano 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 non comprarlo 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 perché alla fine la supercazzola è questa che uno compra un titolo quando scende perché pensa di essere furbo e invece no quindi guardate il prezzo quindi banca generali 1 abbiamo detto tendenza c'è ritracciamento c'è supporto c'è 2G c'è ora il bello della AI strategy è che uno ha bisogno di un segnale trigger anzi i segnali trigger potrebbe essere benissimo all'intorno dei 33 33 euro e 50 chiaro quindi è vero che c'è una 2G quindi uno potrebbe anche aspettare la rottura di questo massimo ma ci viene in aiuto la storia passata no? quindi la storia si ripete in questo caso sì ma non per l'eccezione che sapete voi ma perché la storia ci comunica quelle che sono delle aree molto importanti oltre alle quali alle quali comunque è successo qualcosa di interessante quindi diciamo che qui c'è una situazione interessante la cosa importante della AI strategy è che qualora dovesse essere messa in moto o dovesse partire mi dice già esattamente dove piazzare lo stop grafico naturale chiaro? quindi in questo caso siamo all'intorno dei 32 euro e 40 grosso modo ma anche qui lo so lo so che io posso essere frantiso signori vi ho parlato di uno stop grafico naturale che non va messo in macchina va messo se ci saranno delle condizioni che ci imporranno di metterlo ma al momento ne stiamo pianificando l'investimento chiaro? chiaro quindi ovviamente io sto facendo la sto facendo un po' lunga ma perché quando ripeto del tempo ma potrei anche cercare di ritagliarmene anche un po' di più di tempo però per fare questi video vediamo un po' la prima cosa che dovete fare è capire che il prezzo vi indica cosa fare poi trovare la strategia giusta io ne ho quattro la AI strategy la on the run la fourth e la breakout strategy quattro signori sono più che sufficienti anzi una è anche un surrogato di un'altra quando io vedo gente che ha 18 strategie ma dove cazzo va? che c'è? 18 mercati differenti i mercati tre cose possono fare i mercati o possono salire o possono scendere o possono lateralizzare punto ho 18 strategie caro mio ok quindi qui applichiamo la AI strategy ora cosa è importante ogni strategia ha necessariamente bisogno di un suo money management chiaro? quindi ogni strategia ha necessariamente bisogno di un tipo di capitale da applicare quindi io non voglio dilungarmi troppo in questo video ma vi dico che sulla AI strategy io non supererei i sette decimi del capitale da dedicare a questo titolo chiaro? quindi sia che siamo in un regime diciamo di money management basic sia che siamo in un regime di money management avanzato 2.0 diciamo così io non andrei oltre i sette decimi faccio lo faccio semplice parliamo ai neofiti avete neofiti parliamo a chi perché anche questa cosa nessuno a nessuno piace definirsi neofita che male c'è anche io ero neofita dieci anni fa quando ho iniziato con 500 euro ecco supponiamo che voi avete siete le prime A quindi parlo a voi giovani studenti squattrinati perché quando siete giovani studenti siete squattrinati se avete 1000 euro e volete iniziare a investire in azioni dividete questa 1000 euro in 10 100 100 100 100 perfetto prendete quindi avrete massimo un portafoglio di 10 titoli massimo adesso pure a 6 di ogni decimo dovete dedicare una porzione ad esempio come ho detto prima io non andrei oltre i 7 decimi quindi di questa 100 ci mettete massimo 70 euro su banca generale eh Fabio ma io voglio comprare le repliche costano 120 non la puoi comprare semplice non la puoi comprare datti delle regole inizia a capire che con un capitale limitato hai la fortuna di imparare e sbagliare e perdere poco ma hai anche alcuni vincoli ma ti garantisco che in questa fase i vincoli sono molto meno importanti dell'apporto formativo che avrai quindi potrai comprare al massimo due banche generali a 34 euro chiaro? 34 più i due 68 ci sei al limite poi se voi invece siete già miei studenti sapete come gestire meglio anche i capitali più elevati comunque io non andrei oltre i 7 decimi chiaro? vediamo un po' anche il perchè perchè comunque la AI strategy è una strategia come vi ho detto che va a intercettare sì una forza ma dopo che c'è stato un ritracciamento quindi non è come la breakout strategy che è un alimentarsi della forza sulla forza no è una strategia che va a intercettare un tentativo di recupero di recupero dei prezzi dopo che hanno sperimentato una tendenza ovvio anche qui signori il tentativo non è che io vado a scommettere è tutto ragionato da dove si risume che c'è non un tentativo una volontà ecco una volontà di recupero dal fatto che c'è il supporto c'è la doji c'è una serie di situazioni quindi money management 7 decimi allora 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 non posso condividere il portafoglio se no poi vedete quello che è il titolo del mese e non comprate e me ne vado in rovina ma ok vi non avete visto nulla no allora quindi cosa si fa adesso? bene adesso si fa questo io ho sono qui sulla pagina di banca generali allora è un po' presto sono sincero però dato che ci sono e dato che poi anche se non ricordo male se c'è qualcuno che c'era il mastermind ho visto il mastermind se non ricordo male banca generali ha comunque delle statistiche molto importanti con una profettabilità superiore al 70% di essere comprata in breakout allora io dico che potrei un attimo già piazzare questo ordine pending a 33 euro e 50 ok quindi quindi io sto applicando un money management avanzato 2.0 dove ogni slot che io metto è di 1000 euro quindi se voglio utilizzare massimo fino a 7 decimi dovrei fare 700 euro diviso 30 quanto abbiamo detto 34 33.50 quindi il massimo perfetto quindi sono circa 20 azioni 20 per 33.5 ma facciamo 21 azioni quindi che si fa si va qui compra questa è la directa la mia piattaforma di investimento abbiamo dato 33.50 quindi mettiamo il prezzo limite uguale al prezzo segnale e compriamo 21 vabbè qui non ci interessa il margine perché dovete investire cash quindi se mettiamo questo ordine perfetto 7 decimi massimo 700 euro tic più tic meno ok conferma ok quindi l'ordine è messo in negoziazione ora non vado sul tabellone perché altrimenti voi vedreste è vero che non penso sia vabbè ve lo faccio vedere il mese prossimo quello che è il titolo del mese di questo mese quindi è stato inserito un ordine in negoziazione su banca generale ok quindi questa è praticamente la procedura che io effetto quando quando decido come aprire una posizione su un titolo in questo caso signori io ho messo un ordine in pending cosa significa? ho messo un ordine pendente ovvero un ordine che al momento non è già a mercato ma diventare effettivo quando i prezzi andranno a toccare il mio livello quindi 33 euro e 50 quello che ci siamo detti poco fa chiaro? ovvio come io so di non avere inanzi a me una platia di sprovveduti però siccome la gente è maligna vi dico questo è quello che io sto facendo con i miei soldi chiaro? quindi se tu hai intenzione di fare questo investimento fallo ma prenditi assumiti il rischio anche delle tue azioni anche perché io sono semplicemente qui in un video su youtube e non c'è nessun legame fra me e te chiaro diverso magari quando uno viene in consulenza privata viene in servizi a pagamento lì comunque c'è un altro tipo di situazione chiaro? quindi ci sono domande su banca generale perché quest'oggi voglio proprio scialare quindi magari vorrei anche dare un'occhiata a tutti i titoli che compongono i Fuzz Italia Banca e vedere se c'è qualcosa altro interessante quindi qualche minuto vedo che c'è qualcuno in chat allora allora forse posso staccare la allora champagne questa volta mi consola con un amico hai detto niente 133% bravissimo Roberto complimenti complimenti bravo eh sì 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 ma no ma che sgargiante anzi quindi guardate Roberto è la prova vivente che mentre Roberto non so se ci sia ancora ma vorrei dirti hai un messaggio da dare a quelli che ancora dicono il crollo paura panico terror non lo so cioè Roberto quant'è? 133% e più 96% è qualcosa da dire guarda ti fari entrare in diretta se si potesse fare quindi ragazzi ma allora ricordatevi no? su youtube purtroppo si è riversata una marea di persone ma anche non posso dire youtube anche il telegiornomai siamo praticamente in un clima in cui ogni giorno ti devono dire qualcosa per farti aumentare la paura no? purtroppo per loro ci sono io io li andrei a prendere uno a uno a questi ancora che fanno video sul terrore sui mercati panico non non devi mettere i soldi no ragazzi voi dovete mettere i soldi dove? li ha messi Roberto quando c'era da metterli ovvio magari dopo un più 133% ma neanche perché comunque da amico è un titolo che ha delle prospettive importanti anche secondo me quindi non fatemi intortare dalle persone cattive signor perché veramente la gente vabbè ci siamo capiti ah ok Roberto si è andato via va bene non ti preoccupare sappi che se hai qualcosa da dire puoi farlo va bene quindi ora a parte gli scherzi cioè Roberto Celestino Villa si è fatto un paio un paio di catto con me adesso è autonomo ciao Giulia ciao Giulia non preoccuparti come stai? tutto bene? allora vedo che per il resto non ci sono altre domande ovviamente potete lasciare un commento se qualcosa non è chiaro vedremo un po' di di darvi una risposta oppure scrivete a infochiocciola fabiobrigida.com e lì vi risponderà qualcuno del mio team allora Banca Generali è stata piazzata proviamo a proviamo a vedere un po' cosa accade invece sul resto dei titoli del 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 listino allora Banca Generali visto che c'è un occhio qui cioè è stato messo un pending potrebbe anche non partire se non dovesse partire pazienza chiaro? ok allora visto che Banca Generali è stata inserita in portafoglio io la tolgo dai miei purgatori e la metto di dove deve stare ok quindi questi sono i quadri grafici dei titoli che io ho in portafoglio Snam MS Italgas vabbè però non sono questi argomento di questo video allora andiamo su facciamo una bella panoramica dei bancari ok che ne dite? allora dove si va? si va qui mercato azionario ok Fuzzitalia banche e voilà questi sono una rappresentanza anche perché penso che qualcuno non ci sia tipo Banca IFIS infatti devo visare tra del link che magari questo indice va un attimo ripolpato andiamo a vedere andiamo col mensile poi magari passiamo al trimestrale vediamo un po' che cosa ci dicono questi titoli ovviamente visto che ci siete voi che state vedendo questo video oggi nel 2022 sappiate che il codice per avere la visual trader con il 25% di sconto a questo giro è fabio in stampatello 22 quindi magari volete usare la visual trader ve la provate un anno fornitura standard quindi risparmiate circa 107 euro per la precisione 107 euro e 50 magari se vedrete questo video nel 2023 magari sarà fabio 23 non lo so la nostra grande fantasia dove ci porterà ma se non dovesse funzionare nessuno di questi codici scrivete a info.fabiobrigida.com e vi daremo quello nuovo ok quindi fabio 22 allora partiamo dal basso in credit vediamo prima una macchiata veloce ok questo è un titolo anche che vediamo quando facciamo il rilevatore parti ovviamente sono delle dosi quindi molto interessanti quindi vedete com'è diciamo di questi bancari unicredit molto rischiusa io spero che vi abbiate capito che dovete far lavorare gli occhi dovete far lavorare la vista dovete far lavorare i quadri grafici per voi stampatevi dei riferimenti non sto scherzando è la prima cosa che io dico ai miei studenti quando vengono nelle sessioni private ho detto signori questo è un grafico di chi nasce questo deve essere il vostro riferimento stampatevi stampatevi i quadri grafici dei titoli che possono aiutarvi a prendere delle decisioni rapide corrette in futuro sulla base di qualcosa di già visto chiaro quindi se avete capito un po' come funziona l'andazzo qui unicredit è totalmente l'opposto di banca generale è giusto è vero guardate ve la metto sull'annuale perché magari alcuni non lo capiscono ragazzi sull'annuale unicredit si trova giù sull'annuale banca generale si trova su cioè questo è un qualcosa di netto per capire che su unicredit bisogna fare un'accusa su banca generale bisogna fare un'altra e il problema è che la gente compra unicredit e va short su banca generale questa è la verità chiaro e poi le prospetti no ho comprato unicredit perché è scesa ma il valore intrinseco è molto più alto perché ho visto gli studi degli analisti della del fondo di investimento che si occupa ragazzi e dai insomma potrebbero volerci anni prima che il prezzo si alleni col valore che è quello chiaro anche perché se ci fate caso visto che le le banche le società no rilasciano i propri dati con cadenza trimestrale beh questo vuol dire che fondamentalmente uno dovrebbe rivedere il vero valore di un titolo ogni tre mesi no voi ci avete tutto sto tempo io no quindi guardo i grafici che che è molto più più bello quindi avete visto unicredit ma l'altro titolo sul quale personalmente io sono già in posizione è banco questa qui il banco mi piace bami comunque c'è già una forza relativa e differente rispetto a quella che non c'è sui credit non c'è su finico non c'è su credere un bimbiere banca nì ma no chiaro? signor riapro un attimo che inizio a fare il caldino ci sono domande? quindi per dirvi che sebbene i bancari al momento non siano sicuramente il settore più in forma no? perché è inutile che ve lo dica ma si sa quali sono i settori più in forma del momento no? anzi andiamo di super sector viaggio e tempo libero mi sembra un settore performante beh ho visto di peggio no? no no materie prime energia un po' il commercio il recupero cioè capite perché mi incazzo quando leggo la crisi tutti in perdita ha bruciato i migliaia ma sei comprati le azioni che stanno accorlando è normale poi poi c'è questo c'è questo cazzo di di fatto che c'è esiste solo il Nasdaq allora perché Netflix che fa delle serie di merda fondamentalmente bruttissima te io ho attivato solo durante il lockdown perché fondamentalmente avevo due minuti in più e quindi mi vedevo ogni tanto cioè non è che sono tutte brutte ma è una ogni mille quella bella ok? solo perché Netflix ha perso storicamente non c'è stato l'ultimo trimestre non ha aumentato il numero dei suoi iscritti così come è accaduto nell'ultima ah perché crolla Netflix e crolla qualche altro titolo tecnologico tutto il mondo è in subbullio ma chi se ne frega cioè ecco perché dico signori non vi fidate di quello che mi propongono ma anche non vi fidate di me ma almeno usate il vostro cervello cioè se vi sto dicendo fidatevi di me voglio dire altrimenti che sto a fare qui io sono per farvi capire che alla fine voi dovete ragionare con la vostra testa c'è un video su YouTube un mio video si chiama come sviluppare il tuo pensiero critico andatevelo a vedere secondo me il video più importante che avevo mai fatto negli ultimi anni non è un video di come si va è un video di come si approccia cioè dovete avere una vostra idea e quando leggete sentite eh no ma io sto lontano dai mercati beh perché l'SMP ma l'SMP sono 500 titoli signori eh beh tutti e 500 sono ma non credo proprio allora ci sarà qualche cacchio di titolo che non sta a croire e voi dovete trovare quel titolo dovete investire su quel titolo chiaro? Mario vedi che te la ridi vedo che te la ridi vedo che te la ridi su che cosa? buongiorno comunque quindi chiaro ehm che poi io non voglio offendere nessuno ci mancherebbe però davvero cioè a volte chi perde sacco chi perde soldi in borsa merita di perdersi perché voglio dire porca miseria perché eh magari c'è un affardo morale più elevato della norma soprattutto gioca in borsa quanta gente che vuoi conoscere anche io che conosco io gioco no ragazzi no quindi tu giochi in borsa ma guarda io insegno innanzitutto investo con i miei soldi e poi insegno a chi è interessato come farlo ah quindi giocano no non giocano coglione ti sto dicendo che è una cosa seria ma perché già se si parte col fatto che è una cosa goliardica vabbè ok ragazzi voi avete soldi da buttare dateli a me perché almeno li faccio fruttare chiaro? quindi stavo dicendo e non bisogna andare molto lontano dai facciamo così visto che stiamo vi faccio vedere quelli che sono i titoli che ho in portafoglio ad oggi dal punto di vista grafico così una volta per tutte mettiamo un po' a tacere questi cazzo di queste persone che fanno sti video il terror poi anche ci sono alcuni che sono anche molto seguiti ma anche persone adulte ma non vi vergognate a prendere per culo gli altri immobiliare ma io non voglio investire in immobiliare voglio investire nelle azioni e di poi si fanno tutta l'album fascio per portarvi a vendere a comprare un qualcosa di loro che non c'entro un cazzo col video che hanno fatto io almeno vi dico ragazzi io una cosa so fare io so investire in azioni quindi vi faccio vedere come si fa cosa dovreste fare il come e poi ve lo spiego nei percorsi ma almeno quello che poi vi vendo vi propongo è totalmente inerente a quello che io spiego che io divulgo ma te la vanno a prendere da dietro che è crollato il petrolio e poi ti vendono il corso sulle cripto no andate a cagare scusate chiaro? quindi diffidate dai tutologi e da quelli che sono estremi perché è vero magari non abbiamo un mercato toro come quello che c'è stato da ottobre 2020 a 4 mesi fa e per fortuna anche sono che è palle tutto che intanto ci vuole un po' di brivido no? ma non si può neanche dire che è un mercato tipo il crollo della borsa americana che ci fu quando scoppiò la crisi dei mutui subprime eh no signori cioè lì allora scusatemi se adesso con questo mercato sostanzialmente variegato ma comunque affascinante in forte tendenza per alcuni titoli voi gridate al crollo quando realmente dovreste venire giù cioè che fa? vi spogliavitate fuoco non lo so pur di attirare l'attenzione chiaro? anche perché ve l'ho detto tante volte signori se viene giù tutto chiudete le posizioni basta cioè quando viene giù tutto non dovete cercare occasioni di acquini chiudete e vi godete i guadagni che vi siete meritati eh investendo in tendenza quando c'era da farlo va bene? ok ok allora eh abbiamo fatto un'oretta vabbè Mario poi me lo dici perché stavi vivendo allora questo è una parte del mio portafoglio Aedes Algovat Alerion Cairo D'Amico Banco BPM Campari Erg i grandi viaggi qui sono applicate diverse strategie ve l'ho già detto la A, la Forf, la On The One la Breakout il secondo desk abbiamo Italgas abbiamo Tenaris Tern AMS Snam e Banca Generali che è il pending che ho messo stamattina insieme a voi ok? poi ci sono i due purgatori dove ci sono altri titoli che io tengo sott'occhio per Banca Generali lo possiamo togliere lo possiamo togliere ah scusatemi allora Farma Nauta e Prismia sono gli altri due titoli sui quali ci sono i pending quindi per essere corretto dovrei spostarli vediamo qui dove c'è più spazio lo mettiamo di qui lo mettiamo di qui Prismia qui è un quadro grafico mensile se non ricordo male perfetto anche se qui i prezzi stanno un po' andando verso il basso quindi lo tengo sott'occhio ancora un po' poi vediamo come si sviluppa l'ho detto Prismia nell'altro era Farma Nauta non so se è chiaro ciò che sto facendo Desk 1 e Desk 2 ho detto che sono i quadri grafici sono i desk dove io ho messo i grafici i titoli che ho già in portafoglio mentre Desk 3 e 4 sono i purgatori ovvero i titoli che io tengo sott'occhio PHN e quindi visto che questi sono già messi in portafoglio vado qui PHN ok storico e mi sa che Farma Nauta era sul trimestrale perfetto mi sapevo di sì oddio 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 interessante chiaro? quindi direi che possiamo no aspetta non chiudiamo qui vediamo un po' se c'è qualcosa di interessante qui nel tool ok troppi grafici aperti mi sa che devo chiudere qualcosa allora iniziamo a togliere questi giochi che non ci interessano allora come vi dicevo questo è come io investo su Banca Generali ora il titolo potrebbe prendere il pending bene si gestirà la posizione come con i trend e con gli stop di grafici naturali non dovesse prendere il pending tutto come prima non si entra sulla sulla debolezza non si entra prima del segnale chiaro? bene se è un piacere ci vediamo al prossimo video il titolo del mese ancora fino a dopodomani è 50 euro disponibile se vedete questo video quando il titolo del mese non ci sarà più non lo so però se siete interessati 351 7755 005 percorsi formativi a settembre riprendere anche investi tre mesi in borsa con Fabio già abbiamo cinque sei iscritti quindi portatevi avanti con le cose così vi godete questa bellissima estate che ci aspetta e poi ci vediamo a settembre per tre mesi fortemente operativi chi vuole essere iscritto alla mia newsletter la mia mailing list signori scrivete a info chiocciolafabiobrigida.com dite ciao sono Pinco Palla questo è il mio indirizzo voglio seguire tutte le attività di Fabio noi vi scriviamo in maniera molto molto tranquilla cos'altro spero che il video sia stato di vostro gradimento non mettete un mi piace tanto non mi interessa piuttosto informatevi su come fare meglio con i vostri soldi ciao e alla prossima grazie grazie grazie